Il cross in area, si coordina Sanchez, l'artiglia il pallone, riesce a gestirlo, poi un paio di finte, tre, poi va sul fondo, poi la palla messa in mezzo e poi il tiro! E' il raddoppio dell'Udinese che trova il goal, un goal importantissimo, ancora una volta con Di Natale, prontissimo!